Venerdì 8 settembre 2023 Io, Gaetano Salvemini, torno a casa, a Molfetta, per il mio centocinquantesimo compleanno. Non si apprezzano l'aria e la luce finché le si hanno, per comprenderne il valore bisogna averle perdute. Io le ho perdute. Ho un bersaglio sul petto e un altro dietro la schiena. Uscendo non sono sicuro di tornare col cranio intatto, ma devo darmi l'aria di non avvedermi che delle ombre mi seguano. Devo apparire impassibile. Devo dominarmi per non perdere le staffe. Mi perseguitano per ciò che scrivo e che dico. Ed io scrivo e parlo. Senza la libertà, la patria non è patria. È galera. Li avevo sottovalutati, i fascisti, e adesso non mi resta che partire. Parto ma non scappo. Sono l'ebreo narrante dell'antifascismo che con lo spirito resta in Italia. E non sono per niente stanco. Non mollare. Grazie. Grazie. Grazie.